The lesson of... Allora, adesso noi dovremo prendere una sigaretta, solo che non c'è gente. Come facciamo? C'è Enrico che dorme, ok? Quindi possiamo fottergli una sigaretta. Come si fa a fottergli una sigaretta mentre uno dorme? Proviamo a vedere come si fa. Qui ci sono le sigarette. Ora, nascondiamo le prove, chiudiamo e rimettiamo dentro. Niente di più semplice, ecco come prendere una sigaretta gratis da uno che dorme. Grazie vecchio. Grazie a tutti.